un giocatore quasi Sì, diciamo che io volevo le partite per cui quando anche si fanno vado sempre in campo però magari esulto in un certo modo perché mi piace, perché sento perché credo che sono partecipi con i miei ragazzi e quello che stiamo facendo quindi magari penso che un allenatore che sta lì tutto preciso, precisino io credo che uno deve dimostrare quello che sente e come vive le partite quindi senza poi esagerare però l'ho fatto anche altre volte in altre squadre io sento molto la partita per me gioire è una bella cosa soprattutto con i ragazzi quando vedi che piano piano si sta creando una certa atmosfera, quindi è bello che anche l'allenatore possa poi gioire con loro Listo